A Roma, presso Palazzo Giustignani, si è tenuto l'incontro intitolato Donne e Potere, l'eredità della Roma dei Cesari e la sua influenza sul ruolo femminile nella politica. Un convegno è andato in scena nell'immediata vigilia dell'8 marzo e organizzato su iniziativa di Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia. Diciamo che abbiamo avuto la proposta da un gruppo di rappresentanti del mondo culturale, in particolar modo guidati dalla professoressa Granella, che è una studiosa, che ci ha proposto questo convegno, che è un modo un po' diverso, un po' più originale, per celebrare comunque la festa della donna che in questi giorni ricorre, andando un po' a sviscerare anche nella storia quello che è il ruolo della donna, in particolar modo nell'antica Roma. Credo che sia una cosa interessante quella di, in questo momento, ma non solo per l'8 marzo, in un momento in cui si parla tanto del ruolo della donna, dell'eliminazione di quegli ostacoli che impediscono alla società una piena affermazione della componente femminile, andare a verificare che nella storia il ruolo della donna sia spesso affermato, contrariamente a quanto si possa pensare. La storia non è necessariamente progressiva, lo vediamo anche quello che succede nel mondo con le guerre, spesso si dà per automatico che tutto ciò che riguarda il futuro sia meglio tutto ciò che è stato nel passato. È chiaro che ci sono delle condizioni che riguardano il ruolo della donna che si sono andate a rimuovere nel tempo e che si dovranno ancora rimuovere, ma svisceando si scopre che l'elemento femminile, un elemento fondamentale, ha avuto nella storia modo di emergere e nella storia di Roma in particolar modo e il convegno parla di questo. Tanti gli interventi in sala introdotti da Silvia Tocci, chiamata a moderare la dibattito, tanti anche gli aspetti toccati dei relatori chiamati a prendere la parola, pronti a soffermarsi su argomenti di vario genere, ad esempio i diritti e i risultati raggiunti nel tempo dalle donne. Allora, questo convegno è servito a dare un focus diverso sulla condizione femminile. Normalmente la donna viene sempre vista e considerata, diciamo così, una vittima della società e comunque la condizione femminile è sempre in una situazione di bilico e di incertezza, eccetera. Stavolta abbiamo voluto mettere, diciamo, in risalto invece quando la condizione femminile era di potere e questo è iniziato nell'antica Roma. Nell'antica Grecia no, perché la donna era decisamente solo sottomessa, ma nell'antica Roma sappiamo bene che specialmente nei primi secoli dell'impero la donna ha avuto un ruolo molto spesso predominante, seppure sempre naturalmente dietro all'uomo, nascosta dalla figura maschile. E quindi poi abbiamo voluto sottolineare come, però anche a distanza di duemila anni, la difficoltà per le donne di imporre la propria autorevolezza, la propria capacità, è sia ancora comunque difficile e quindi che, malgrado i vari tetti di cristallo che sembra si siano rotti, purtroppo la strada è ancora lunga, ma l'universo femminile è molto forte e sicuramente riusciremo a ottenere veramente quella parità di genere che ci spetta. A proposito di grandi donne dell'antichità, si può ritenere emblematica la figura di Vibbia Sabina, moglie di Adriano, ottenne la titolo di Augusta nel 117, anno in cui lo stesso Adriano assunse il ruolo di imperatore ricoperto in precedenza da Traiano. Abbiamo avuto la possibilità di proiettare delle monete, fra cui appunto quella di Sabina, e delle monete in cui le Auguste erano rappresentate spesso anche sulla moneta d'oro che voleva sottolineare l'enorme importanza politica del personaggio femminile in questione. Noi abbiamo sottolineato in particolare la figura di Livia, la figura di Agrippina Minore e la figura di Plotina che sono state tre grandi, chiamiamole imperatrici, perché in realtà sono state elette Auguste, quindi come tali avevano il ruolo imperiale. Un incontro quello tenutosi all'interno della Sala Zuccari e del Senato, utile per ragionare su questioni capaci di abbracciare diversi ambiti, notevole anche la partecipazione di pubblico, segno evidente che quando si parla del ruolo delle donne nella società l'interesse è sempre elevato.